un po ma ragazzi si vuole di prendere in questo lato e faccio il bar orsi orsi a me favore ti vai a chiederti se c'hanno un samurai per favore se si cadete si samurai oh samurai è un oh ragazzi mi chiesto non c'hanno mai il samurai ce l'avete fa ma guarda il samurai è appena andato via però l'ha lasciato qui il kimono ah